Dopo aver celebrato le ultime funzioni religiose del weekend, la Cattedrale di Pesaro da oggi ha chiuso le porte a fedeli e visitatori per avviare il previsto cantiere di ampliamento delle finestrature sui sotterranei mosaici del Duomo. Un tesoro nascosto, la cui visuale, oggi ristretta e opacizzata, migliorerà dopo l'intervento finanziato da Fondazione Scavolini ed eseguito da Renco presentato tre settimane fa. Un intervento che amplierà le vetrate attualmente esistenti nella navata centrale di oltre 42 metri quadrati, con la sostituzione di vetri opacizzati e usurati dal calpestio e la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione. Un progetto che porterà a far riemergere parti attualmente non visibili del tappeto musivo sotterraneo, la pavimentazione a mosaico del VI secolo e la trincià che ha messo alla luce quella del IV e V secolo. Si potrà apprezzare anche il pannello della nave troiana e della sovrapposta scacchiera del XII-XIII secolo. Un mese di lavori circa che saranno seguenti dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che porteranno a riaprire il Duomo indicativamente fra fine maggio e inizio giugno, un mese in cui le funzioni religiose saranno dirottate sulle chiese del centro storico di Santa Lucia e San Giuseppe.